Oro bellissima questa luna nel segno del capricorno, è una luna che vi invita a cercare, a cercare persone nuove, a cercare nuovi rapporti, a cercare nuove esperienze lavorative e professionali, è una luna che vi invita anche a muovervi, a viaggiare, a spostarvi, a non rimanere fissi e ancorati sempre nello stesso posto. Insomma dovete avere il coraggio anche un po' di cambiare le vostre abitudini, sappiamo che voi amici del toro siete delle persone piuttosto abitudinarie quindi avete sempre delle grosse difficoltà quando si tratta di cambiare frequentazioni, di cambiare posto di lavoro, di cambiare anche itinerario quando andate a lavorare, invece sarebbe il caso di farlo perché tutto questo potrebbe portare delle ottime sorprese nel corso di questa giornata, è una luna molto bella anche per l'amore, per i nuovi sentimenti che nascono in questo periodo. Andiamo al segno dei gemelli.